A poche ore dall'inizio di una nuova puntata di Ballando con le stelle, spunta fuori un video inedito sulla lite della scorsa settimana tra il ballerino professionista Giovanni Pernice e lo storico giudice dello show di Millie Carlucci, Guillermo Mariotto. Protagonista del video in questione, che mostra il dietro le quinte dello show di Rai 1, è proprio Pernice che, dopo avere battibeccato con Mariotto in diretta tv perché quest'ultimo lo ha accusato di essere venuto da Londra per portare balli vecchi come Il Cucco e poco innovativi, si è sfogato con la sua ballerina nonché fidanzata Bianca Guacero riversando dure parole su Mariotto. La scorsa settimana Pernice aveva scelto di non rilasciare interviste post-esibizione per evitare sfuriate congedando la sua Bianca con delle scuse e un bacio in bocca che ha confermato la loro relazione, ma adesso possiamo finalmente scoprire qual è il suo pensiero su Mariotto. Nel video, infatti, Giovanni si sfoga con la sua compagna di ballo, arrivando perfino a parlare di bullismo verbale nei suoi confronti. A tutto c'è un limite. Non ti è piaciuto il ballo? Bene, dammi zero ma non andare sul personale. Non è giusto neanche nei tuoi confronti. Devono giudicare te ha esordito, palesemente innervosito, Giovanni. Lui non sa chi sono io o cosa ho fatto. È una persona che manca di rispetto. Questo è bullismo verbale. Mi dispiace per te, che ti sei fatta il mazzo tutta la settimana, ha poi detto Giovanni a Bianca che, però, ha occhi solo per il suo Giovanni e l'unica cosa che le interessa è che lui sia contento del suo lavoro. E la replica del maestro di ballo, e fidanzato, non manca ad arrivare, sono super contento. Ogni settimana spacchi, sei troppo brava, chissà come commenterà Mariotto questo video stasera. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle su Rai 1.